La promozione è bellissima, soprattutto farlo in questo stadio, che per me è un stadio importante, però soprattutto sono contento per la vittoria della squadra, che ci siamo meritati tutti. Sì, è stato più difficile il salvataggio del gol. Come è stato il domenico che ci dovevi ritrovare? Non lo so, un po' di fortuna, un po' di bravura. Sì, sicuramente sono arrivato in un gruppo che comunque conoscevo già, i ragazzi dal primo giorno sono entrato messo nel gruppo, poi sicuramente sento più la fiducia da parte sia della società che da parte del mister, rispetto agli altri anni, quindi diciamo che per ora sta andando tutto bene. Il prestito a Portiglione è servito? Per ora diciamo di sì.